Vi ho raccontato di quella volta che Giacomo ha tolto un dente al sindaco del paese Ah beh, questa dovete proprio sentirla Uno studio dentistico ha bisogno di tanta energia Ci sono macchinari, luci, climatizzatori Giacomo si lamenta sempre delle bollette alte Mentre i pazienti sono sotto ai ferri Come se il dolore non fosse già abbastanza Col sindaco già stordito dal mix di chiacchiere e anestesia Ecco l'assistente di Giacomo che si presenta in stanza con una faccia che è tutto un programma Ha in mano una bolletta e quando legge l'importo Giacomo fa un balzo proprio mentre sta estraendo il dente al sindaco Non esattamente un'operazione mai riuscita Ma perché non metti il fotovoltaico, disgraziato? Dovete sapere che il sindaco è un grande sostenitore delle politiche green Come dargli torto, l'energia solare conviene Investimento iniziale lo ammortizzi grazie al risparmio in bolletta Con le agevolazioni puoi detrarre il 50% dell'intero costo E l'energia non consumata ti viene in parte rimborsata Mettici anche i costi di manutenzione, sono davvero minimi E che con estra puoi monitorare i consumi dove e quando vuoi tramite app mobile Ma soprattutto dai una mano all'ambiente riducendo le emissioni di CO2 Beh, sono passati 5 anni da quel giorno E oggi lo studio di Giacomo risparmia grazie al fotovoltaico di estra Peccato non abbia potuto raccontarlo al sindaco che nel frattempo ha cambiato dentista Con estra, il futuro è oggi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti